Poi di poter concludere abbastanza presto perché immagino che anche tutti siano abbastanza stanchi, però abbiamo due relazioni adesso di grande interesse che sono sostanzialmente due relazioni di critica d'arte che ascolteremo con molto piacere. La prima c'è offerta da Emma Sdegno che è sicuramente un volto più che noto a Venezia professoressa associata di letteratura inglese presso il Dipartimento di Studi Europei e Postcoloniali della Facoltà di Lingua e Letteratura Estraniere dell'Università di Ca' Foscari. Non è arrivato in fondo. Le sue ricerche e produzione scientifica avvertono sulla retorica della saggistica inglese dell'Ottocento, sull'opera di John Ruskin e la sua ricezione in Francia e in Italia nel Novecento, sulla letteratura di viaggio, con particolare riferimento alla costruzione dei miti delle Alpi e di Venezia, sul rapporto fra letteratura e arti figurative e in particolare la critica vittoriana su Jacopo Tintoretto, sull'esegesi biblica tardo-vittoriana, sulla traduzione letteraria e poetica. Emma Sdegno studia il rapporto di Ruskin con le istituzioni veneziane e ha organizzato incontri sul tema coinvolgendo le stesse istituzioni. Ha presentato negli anni, attraverso gli iscritti di Ruskin, i teleri di Tintoretto alla Scuola Grande di San Rocco nella pubblicazione Looking at Tintoretto with John Ruskin e Venetian Anthology, oltre al ciclo di Sant'Orsola di Vittore Carpaccio all'Accademia e la Scuola Grande di San Marco. Emma Sdegno ci parlerà di Ruskin e i paesaggi di Tintoretto nella critica anglo-americana. Ho dimenticato di dire, a proposito di Ruskin, che sta per uscire per Marsilio in Venice with Ruskin, scritto appunto da Emma Sdegno. Grazie, grazie Agnese di questa troppo generosa introduzione. Ruskin giunge a Tintoretto attraverso il paesaggio. Ecco, e qui vorrei fare appunto una premessa. Quando ho iniziato a studiare Tintoretto attraverso Ruskin, quindi non da storica dell'arte ma da anglista quale sono, mi sono trovata a leggere il volume, il bel volume di Cesare De Seta, Venezia e Moby Dick del 2016. Nel capitolo Tintoretto è Venezia anche se non dipinge Venezia, De Seta appunto notava come l'argomento del paesaggio forse marginale nella letteratura critica. E a me è sembrato strano, perché avendo conosciuto Tintoretto attraverso Ruskin, mi sembrava che fosse un argomento invece centrale. Ecco, quindi io da questa prospettiva diciamo sbilanciata di Ruskin verso il paesaggio, terrò appunto la mia conversazione oggi. E quindi appunto vi metterò a parte, leggerò alcuni brani di Ruskin sul paesaggio di Tintoretto, quindi in qualche modo riducendo l'ampiezza delle indagini che avevo promesso di fare dal titolo. Quindi non tratterò della critica post-Ruskiniana, ma mi soffermerò su quello che Ruskin ha detto. Poi appunto nel saggio che verrà pubblicato, naturalmente appunto tratterò di questo aspetto e anche nella conversazione che potrà seguire, se vorrete. Quindi, sin da bambino, Ruskin ci racconta in preterita la sua autobiografia, coltivava un amore per le scienze naturali, ha studiato con grande passione la geologia, la botanica, e i suoi primi saggi pubblicati all'età di 16 anni per una rivista scientifica sono sul colore e la trasparenza dei fiumi. I primi viaggi sul continente di Ruskin sono fitti di annotazioni dettagliate, scritte con cura e un sapiente uso della lingua, in cui registra la conformazione e la composizione del suolo, la vegetazione, e fino a raccogliere in un erbarium dei fiori delle Alpi che chiamerà Flora of Chamonix, che è stato recentemente pubblicato in una bellissima edizione. Nei viaggi annota quanto vede con grande precisione, presta già attenzione all'architettura, ma soprattutto è alla natura, al paesaggio che presta attenzione. E si porterà, porterà con sé il giovane Ruskin addirittura un cianometro, che è uno strumento che serviva, aveva scoperto, serviva a misurare l'azzurro del cielo. Ruskin cresce leggendo i poeti romantici, i poeti della natura, Welsworth in particolare, è il poeta faro della sua gioventù fino alla maturità, e i versi dell'Excursion, di questo poema autobiografico di Welsworth, fanno da esergo al primo volume di Modern Painters. Sempre frutto dei suoi viaggi giovanili, è The Poetry of Architecture, una raccolta di saggi in cui il giovane Ruskin, diciannovenne ormai, esamina le dimore dei diversi paesi europei e le associa, che associa al loro paesaggio, al paesaggio rappresentativo, naturalmente c'è forte l'influenza del pittoresco, e ogni paesaggio viene associato ad un colore. E il paesaggio dell'Italia è l'azzurro, per esempio, e l'albero rappresentativo è il cipresso. Questo appunto per darvi un'idea appunto della sensibilità che Ruskin già da giovane dimostra per il paesaggio. Ma è in Modern Painters, pittori moderni, che Ruskin si inoltra nel campo della pittura di paesaggio e che, come dirà ancora nell'autobiografia, nel mare maggiore di Tintoretto e dei veneziani e ne verrà travolto, perdendosi in esplorazioni senza fine, controverse e dolorose, nell'architettura, nell'arte, nella società e nella politica, che le allontanarono dai lidi sicuri dello studio della natura, come dirà appunto, con l'ironia disincantata che colora l'irrimediabilità del rimpianto in preterita. La scrittura di Ruskin, la sua retorica, presenta una ricchezza di stili, di registri espressivi, di temi che appunto caratterizzano un'opera vastissima e multidisciplinare, irrivedibilmente multidisciplinare, raccolta magistralmente, ma ancora parzialmente, nella Library Edition, che è composta da 39 volumi, pubblicata appunto tra il 1903 e il 1910. La ricezione di Ruskin è stata fortemente condizionata da vari frattori, su cui appunto non mi dilungherò. Anche per la sua natura transitiva e digressiva, è stato spesso antologizzato e sono stati pubblicati spesso solo brani rappresentativi della sua opera, soprattutto rappresentativi di un virtuosismo stilistico, che naturalmente appunto anche caratterizzava la sua prosa, ma non poteva appunto identificarsi naturalmente in questa. Quella purple prose, quella prosa purpurea ricchissima, di cui Ruskin nella maturità stessa ebbe adolersi, proprio perché per questa identificazione con un linguaggio che non voleva appunto lo rappresentasse. Questo fattore stilistico, unito ad un pensiero di matrice marcatamente cristiana, che attribuiva una centralità alla dimensione etico-religiosa, e a una struttura retorica e di pensiero che procedeva spesso per opposizioni binarie, contrapponendo Medioevo a Rinascimento, i pittori appunto moderni, ai paesegisti del Settecento, a Claude, Lorrain, a Poussin, che abbiamo visto, a Tintoretto ancora e addirittura a Michelangelo, hanno contribuito a una certa marginalizzazione di Ruskin nel Novecento, ad un oscuramento o a una lettura approssimativa della sua opera, che è avvenuta spesso solo per brani o per frasi ad effetto, e questo non ha reso giustizia al suo pensiero che è senz'altro complesso, inquisitivo, senz'altro anche contraddittorio e destabilizzante, penetrante ed originale. La vitalità del suo pensiero, tuttavia, e delle sue intuizioni, si ripropongono nel tempo quando insorgono delle emergenze. Oggi, che la questione dell'ambiente è di drammatica attualità, opere oscure dimenticate come The Storm Cloud of the Nineteenth Century, la nube tempestosa del XIX secolo, risultano straordinariamente profetiche. Una lezione, si tratta appunto di una lezione che Ruskin tenne a metà degli anni Ottanta, rivolta appunto alla società meteorologica, in cui Ruskin legge i segni del tempo atmosferico, con precisione, usando la precisione del linguaggio della scienza dell'epoca, e inserendo questi segni in una cornice escatologico-apocalittica. L'attenzione di Ruskin per il paesaggio è inevitabilmente a tutto tondo, naturalmente olistica, diremo. Quando scruta con attenzione il quadro, con l'occhio del pittore, perché Ruskin era anche un finissimo disegnatore-pittore, lo fa per appropriarsi del segreto del dipinto, del processo creativo dell'artista, e mira poi a cogliere quei segni di una sensibilità per il paesaggio che Ruskin esaminerà anche con un interesse storico. Qui nel terzo volume di Modern Painters affronterà la questione appunto del paesaggio da più punti di vista, prendendo in esame il paesaggio degli antichi, come ci è stato fatto sentire molto bene ieri dalla professoressa Ghedini, del paesaggio medievale, del paesaggio moderno, del paesaggio di Turner. Quindi veramente è una panoramica, una ricognizione del paesaggio molto molto ampia e interessante. Quindi ritorniamo a Modern Painters. L'assunto di partenza di Modern Painters, pubblicata appunto in cinque volumi dal 1843 al 1860, è esplicitato dal sottotitolo their superiority in the art of landscape painting to all the ancient masters proved by examples of the true, the beautiful and the intellectual from the works of modern artists, especially from those of J. M. W. Turner. Ossia la loro superiorità a pittori moderni, la loro superiorità nell'arte del paesaggio, della pittura di paesaggio rispetto agli antichi maestri appunto tratti gli esempi del bello dell'intellettuale e soprattutto gli artisti moderni si identificano con Turner. Questo sottotitolo Ruskin lo ometterà nei volumi successivi quando si renderà conto di essere stato ingenuo come sono gli ingeni i giovani che credono appunto di aver trovato una chiave che possa servire per inquadrare una questione. Ecco, quindi questo sottotitolo verrà omesso ma manterrà naturalmente la ricerca in questi volumi successivi condividendo, sentendo ancora la fondatezza dell'intuizione che costituisce appunto il nucleo del suo pensiero, ossia la modernità del paesaggio nasce come sappiamo nel momento in cui entra in crisi il rapporto dell'individuo con il paesaggio stesso. Ruskin lo intuisce ma lo scopre via via, lo scopre attraverso i maestri, attraverso l'osservazione della pittura di paesaggio. Quindi Modern Painters conduce uno studio del paesaggio in modo diciamo in qualche modo sistematico se possiamo parlare di sistematicità di Ruskin nel primo volume prende in esame diciamo i lemmi della grammatica del paesaggio quindi gli elementi l'acqua i cieli la vegetazione il foreground il primo piano lo sfondo quindi prende in esame questi elementi e conduce un paragone continuamente una mette accanto una rappresentazione degli antichi maestri soprattutto Salvatore Rosa soprattutto Claude Lorrain soprattutto Poussin e Turner il quale risulta impareggiato naturalmente ma dove compare Tintoretto a questo punto gli scritti di Tintoretto su Tintoretto compaiono nel secondo volume di Modern Painters pubblicato nel 1846 e nel Venetian Index e appunto brevemente Ruskin scopre Tintoretto viene narrata più volte appunto questa scoperta questo incontro nell'ingresso sarà un giorno memorabile del 24 settembre del 1845 data memorabile è una scoperta appunto anticipata di qualche giorno come ci dicono appunto i taccuini come veniamo a sapere dai taccuini che sono stati pubblicati di recente da Paul Tucker della Madonna dell'Orto in questi taccuini già era stato folgorato diciamo dalla Madonna dell'Orto e dai dai teleri dei grandi teleri appunto della di giudizio universale Ruskin da questo incontro così in qualche modo appunto in preterita considera questa questo incontro qualcosa di fatale e di una fatale una avversità a fatal avversity in realtà appunto è una un'apertura a delle tematiche anche a una missione che Ruskin sentirà di dover assolvere da questo punto in poi da questo momento in poi maturerà anche l'idea la concezione di di agire in modo in modo attivo per per la salvaguardia di Venezia e quindi è da questo momento in qualche modo che possiamo riconoscere che nasce in Ruskin l'idea di scrivere le pietre di Venezia con l'incontro anche di Tintoretto questo è un aspetto che non è stato messo debitamente in rilievo ma secondo me è significativo in Modern Painters 2 Ruskin doveva scrivere dell'immaginazione della creatività del pittore ed era rimasto bloccato era rimasto in qualche modo ad una fase di unpass non riusciva ad uscire da degli schemi che erano schemi appunto di una lettura romantica debitrice probabilmente a Coleridge e che però sentiva in qualche modo inadeguata per il linguaggio della pittura e con Tintoretto riesce l'incontro con Tintoretto gli dà la possibilità di scrivere di finire di scrivere e scriverà questo capitolo importantissimo per per la critica appunto su Tintoretto che è il capitolo sulla imagination penetrative l'immaginazione penetrativa in qualche modo non penetrante perché non è penetrating ma è una una facoltà che che rende possibile appunto la penetrazione diciamo il concetto chiave non mi dilungherò nemmeno su questo però qualche qualche breve così annotazione il concetto chiave su cui Raskin fonda la sua teoria dell'immaginazione penetrativa è la suggestiveness la capacità di suggerire di evocare la propria appunto dell'artista religioso perché si sta parlando appunto di di una arte sacra quindi proprio dell'artista religioso e anche del critico che deve ripercorrere il processo creativo dello stesso artista per Raskin è questo il critico deve appunto seguire a ritroso diciamo il processo creativo quindi il critico mette in atto nel caso di Tintoretto possiamo dire anche quella quel coinvolgimento empatico di cui si parlava ieri cioè si è riconosciuto in Tintoretto questa capacità di attrarre di portare dentro il dipinto ecco Raskin si sente appunto interpreti di Tintoretto rendendosi proprio mediatore di questo invito alla partecipazione attiva ecco quindi la suggestiveness questa suggestività è anche l'illuminazione dell'esegesi nell'accennare con un tratto alla verità della storia sacra rendendola presente e questa suggestiveness è caratteristica del linguaggio visivo di Tintoretto secondo Raskin e anche appunto come poi è stato notato in questi giorni dalla critica tentorettiana che non rappresenta ma accenna e dice Raskin evitando ad esempio di mettere in scena manifestazioni di atrocità e innalzando invece la drammaticità della scena attraverso l'elisione e lo spostamento come avviene Raskin lo dimostra diffusamente e non mi dilungo nella strage degli innocenti e nella crocifissione è la profonda conoscenza dei testi sacri da parte di Raskin che dà autorità e necessità alla nozione potenzialmente aperta di suggestività Raskin studia i dipinti in dettaglio con grande precisione e ne legge quasi sempre infallibilmente l'iconografia grazie a una profonda conoscenza delle sacre scritture coltivata in seno all'evangelismo protestante abbiamo si è detto appunto di quanto conoscenza appunto approfondita ci fosse appunto da parte dei appunto delle chiese protestanti quindi la suggestività inoltre di Tintoretto dipende per Raskin anche da quel suo linguaggio distintivo che fa largo uso del registro umile nell'attenzione ai poveri agli ultimi Raskin vede il segno della fedeltà letterale alla parola evangelica riflessa nell'edificio stesso che accoglie l'opera del pittore Tom Nichols che non conoscevo personalmente ma di cui conoscevo appunto l'importante monografia su Tintoretto l'ha dimostrato appunto nella monografia e ieri nella sua relazione individuando nell'iconologia della povertà un tratto marcato di Tintoretto notando che la rappresentazione positiva e cito appunto Nichols che Tintoretto fa dell'uomo malato e abbandonato non è paragonabile a quella di nessun altro pittore veneziano del suo tempo Raskin nell'indice veneziano osserva come mendicanti poveri storpi popolino parti non marginali del quadro e talvolta siano in primo piano rispetto al Cristo come nell'ultima cena di San Giorgio Maggiore o di San Rocco a costo dice Raskin di produrre un dipinto dall'effetto sgradevole anche nell'annunciazione e nella durazione dei Magi le letture di Raskin si fondano sul valore evangelico della povertà di Cristo ma in particolare nota Raskin il valore dell'umiltà e della povertà è trasmesso da Tintoretto nella cura con cui egli dipinge gli animali umili le due colombe ai piedi dell'adorazione dei Magi e più ancora l'asino della fuga in Egitto qui dice Raskin una delle figure principali è l'asino non ho mai visto degli animali più nobili leoni leopardi draghi rappresentati in modo tanto sublime quanto questo animale domestico dice Raskin e attribuirà una centralità narrativa all'asino chino sulle foglie di palma in secondo piano nella crocifissione a San Rocco vero e proprio colpo da maestro così dirà ma andiamo al paesaggio un brano particolarmente rappresentativo è la descrizione del giudizio universale alla Madonna dell'Orto appunto che vide prima del suo ingresso nella scuola di San Rocco nel tacquino che appunto c'è stato trasmesso appunto nell'edizione di Tacker vengono già registrati gli elementi caratterizzanti il dipinto il richiamo dantesco con la barca di Caronte l'impeto della pittura il movimento vorticoso e concitato e le suggestioni visive e nei pittori moderni quindi nella riscrittura nei pittori moderni vengono enfatizzati questi tratti rendendo più evocativa e meno dettagliata la descrizione in modo che in primo piano ci sia quella suggestiveness termine non ancora presente nel tacquino che si manifesta nella potenza che trasforma e infonde vigore all'episodio dantesco alterandolo nell'immediatezza della creazione se nel tacquino Ruskin indica gli elementi caratterizzanti il dipinto come il risveglio delle anime il tempo che intercorre tra la morte e il giudizio in cui cito il bene e il male sono ancora indistinti nei pittori moderni è rappresentato l'atto del risveglio dei corpi in cui le ossa faticosalmente si ricompongono e i corpi si levano in entrambi i testi è marcata la carnalità e la sacralità del corpo rese non solo nella descrizione delle anatomie ma anche nel tumulto della scena che evoca la visione del corpo mistico del paradiso cito correnti di atomi di vita che circolano nelle arterie del cielo infine il fiume dell'ira di dio è identificato con le acque dell'oceano riconoscendo così il riferimento a Venezia ci si trova in una scena di apocalisse veneziana il diluvio si scatena in tutta la sua violenza terribile sulla laguna la descrizione minuziosa dei dettagli ci porta nel vivo della scena svolgendone tutta la suggestività attraverso un uso marcato di verbi al presente cito come pipistrelli che escono dalle tane dalle caverne e dalle ombre della terra le ossa si raccolgono e i cumuli di fango si sollevano battendo e aderendo in anatomie a metà impastate che strisciano e sussultano e lottano tra le alghe putride l'argilla ancora incollata ai capelli coagulati e gli occhi pesanti ancora chiusi dalle tenebre della terra come il cieco che andò un tempo alla piscina di Siloe di Tintoretto Ruskin coglie dunque pienamente l'attualizzazione del racconto biblico la rivelazione si radica nel luogo presente quindi a Venezia investita dalla voce della profezia nella essenziale drammaticità della vita quotidiana come poi farà nella annunciazione nel battesimo e nell'ultima cena sette anni dopo l'ingresso a San Rocco nel 1853 veniva pubblicato il terzo ed ultimo volume delle pietre di Venezia il libro si chiudeva con ben dieci appendici seguite da quattro indici un indice dei nomi un indice dei luoghi un indice tematico e un indice veneziano la posizione testualmente marginale di quest'ultimo l'ha sostanzialmente oscurato dall'attenzione dei lettori e dei critici per lungo tempo inoltre rimosso da varie Traveler's Editions le fortunate riedizioni abbreviate delle pietre di Venezia l'indice veneziano non è mai apparso in traduzione italiana la cosa è paradossale se si considera che il testo risulta essere esteso autonomo e compiuto con i requisiti che Raskin proprio nella nota introduttiva all'indice attribuiva a una guida artistica dice cito ho cercato di rendere l'indice il più possibile utile al viaggiatore indicando solo le opere degne della sua attenzione e annunciava di aver cercato di fornire abbondanti note sui dipinti di Tintoretto poiché sono molto danneggiati difficili da leggere e completamente trascurati da chi scrive d'arte l'indice veneziano presenta in ordine alfabetico gli edifici di valore in Venezia e riporta osservazioni tanto dettagliate sulle opere di Tintoretto da poter essere considerato effettivamente una guida tintorettiana ma questo è nascosto nel testo non lo si non lo si sa se non si presta attenzione proprio solo a questo elemento come Ruskin registra lo stato di conservazione gli aspetti formali e cromatici in un discorso che si propone esaustività ed oggettività esprimendo giudizi di valore acuti divertenti severi lo studio dei caratteri distintivi dei dipinti si sofferma minuziosamente sulla rappresentazione del paesaggio e sull'uso del colore ecco e ora appunto darò qualche esempio di lettura ecco sulle tanto evocate tanto citate Marie o appunto secondo il titolo i titoli precedenti Santa Maria Egiziaca e la Maddalena cosa dice di questi dipinti Ruskin nell'indice veneziano quindi dedicando dei paragrafi alla descrizione dei dipinti dice sono stati dipinti per riempire degli spazi tra le finestre troppo stretti per essere occupati da composizioni ma in cui anche delle singole figure avrebbero comunque dato l'impressione di essere state maldestramente infilate in un angolo Tintoretto ha ingrandito questi spazi il più possibile riempendoli con paesaggi resi interessanti dall'introduzione di piccole figure sole non ha però ritenuto che far apparire grande un pannello di legno meritasse tutte le sue capacità e ha dipinto i due paesaggi con la negligenza e la rapidità di un tappeziere che rifinisce una stanza d'hotel vicino alla stazione il colore è quasi ovunque opaco gettato o pasticciato come su uno sfondo di teatro e poiché il sole batte tutta la mattina sull'una e tutto il poveriggio sull'altra tela le tinte già in origine imperfette e poco consistenti in molti punti si sono seccate in grumi di sporco con tutti questi inconvenienti i quadri sono di interesse altissimo perché sebbene dipinti come ho detto in fretta e senza cura non sono stati fatti con indolenza al contrario Tintoretto vi ha lavorato con il temperamento più elevato e ardente e nel primo dei due la maddalena l'albero di alloro con le foglie che si muovono qui e là tra le nuvole di fuoco è probabilmente uno dei punti più alti che abbia raggiunto nel dipingere il paesaggio le radici sono aggrovigliate alla boscaglia di cui si distingue ogni foglia e tuttavia l'albero ha un aspetto così spontaneo e selvaggio che non sembra sia stato dipinto ma sembra piuttosto cresciuto nella tela in origine c'era anche una montagna in lontananza ed un cielo con una luce di tempesta di cui rimpiango infinitamente la perdita poiché sebbene le sue masse di luce si distinguano ancora tutta la varietà di sfumature è svanita in un marrone appassito c'è un curioso dettaglio di esecuzione nel modo in cui la luce colpisce il ruscello che scorre sotto le radici dell'alloro in primo piano le radici sono tracciate nell'ombra contro la superficie luminosa dell'acqua un altro pittore avrebbe prima disegnato la luce e poi sopra le radici scure tintoretto ha steso un fondo marroni per le radici e dipinto l'acqua tra gli interstizi con forti pennellate cariche di bianco e della e della della dell'altra maria dirà poco diverso nell'impostazione dal dipinto di fronte solo che la santa maria qui ci dà le spalle mentre la maddalena mostra il viso e l'albero che cresce sull'altra riva del ruscello è una palma e non un alloro il fiume il giordano punto di domanda qui è molto più importante e l'acqua è dipinta con estrema delicatezza tra tutti i pittori che conosco tintoretto degli antichi è quello che più ama l'acqua che scorre c'era una specie di identificazione tra l'acqua viva e il suo spirito impetuoso il resto del paesaggio non è di grande interesse se non per il fatto che è piacevole vedere tronchi d'albero disegnati con pennellate staccate ecco questo è un esempio appunto di descrizione delle marie ma sull'acqua ecco Ruskin insiste è un elemento il modo in cui Tintoretto dipinge l'acqua già suscita la sua attenzione mi sembra molto interessante appunto dopo tutte le relazioni così stimolanti che ci sono state sull'acqua ecco aggiungere anche la voce di Ruskin Ruskin dice questo sul battesimo a San Silvestro non è necessario avere una grande conoscenza di Tintoretto per vedere che queste figure non sono di sua mano tornando al lato opposto della navata si vede chiaramente la giuntura sulla tela poiché la parte superiore è stata interamente aggiunta non possiamo sapere se questa parte fosse presente già prima che il quadro venisse ridipinto o se in origine la tela fosse quadrata ma credo avesse una parte superiore che è andata distrutta non sono nemmeno sicuro che la colomba e gli angeli che occupano la sommità della parte più antica dell'opera siano autentici il resto del dipinto è magnifico sebbene nelle figure del Salvatore e del Battista il pittore abbia fatto qualche concessione all'esigenza imperativa della sua epoca che a un'azione corrisponda sempre un atteggiamento e non riesco a trovarvi niente delle consuete singolari invenzioni di Tintoretto c'è solo Cristo nell'acqua e San Giovanni sulla riva senza assistenti discepoli e testimoni di sorta ma la potenza del gioco dell'ombra e della luce e lo splendore del paesaggio che nell'insieme è ben conservato lo rendono un esempio interessantissimo il Giordano è rappresentato come un torrente di montagna che riceve come affluente una cascata che cade dalle rocce dove si trova San Giovanni c'è una pietra tonda in mezzo alla corrente e il movimento dell'acqua che questa separa così come il suo incresparsi tra le radici di qualche albero scuro sulla sinistra sono fra i ricordi più esatti della natura che si possano trovare nelle opere dei grandi maestri non so se ci sia più da meravigliarsi della potenza di un uomo che ha abbattuto il disinteresse universale della sua epoca nei confronti della natura oppure della prova visibile in tutta la sua concezione che questi si accontentava di dipingere i flebili ricordi delle onde che aveva visto nelle regioni di montagna invece di risalire alla fonte che lui stesso aveva scoperto tra le colline del Friuli non via Ruscello che su un quarto di miglio del suo corso non gli avrebbe suggerito forme di cascata più belle di quelli che ha pigramente dipinto a Venezia le osservazioni come vedete molto attente e precise di Tintoretto di Ruscello sul Tintoretto colgono anche un altro aspetto l'aspetto del confronto con Turner perché abbiamo detto che il suo avvicinamento ai paesaggi degli antichi è via i moderni attraverso i moderni quindi Ruskin coglie questa affinità o anche questa somiglianza o anche qualche furto fatto da Turner verso Tintoretto esplorando esplorando le vie misteriose della creatività Ruskin individuava una strana somiglianza tra Turner e Tintoretto entrambi imprevedibili nel modo di sentire profondamente il soggetto e nel dipingerlo di conseguenza le annotazioni sull'uso della luce in Tintoretto in alcuni casi significativi rinviano direttamente a Turner scusate era questo che non vi ho mostrato vabbè lo conoscevate ecco il pavone nota Ruskin nota sempre dei particolari marginali dicendo appunto che è nel linguaggio di Tintoretto come è stato notato quello di dare rilievo all'elemento marginale ecco quindi nota come il pavone che qua si vede male invaso dalla luce e privo quindi di colore nella dorazione dei pastori suscita l'associazione al particolare di una marina di Turner questo procedimento dice è esattamente analogo a quello che segue Turner quando priva del colore le bandiere delle navi nel Gosport questo l'associazione tecnica quindi il privare un elemento della luce per dare rilievo a quanto invece merita più valore più attenzione e ancora notava tratti comuni e due pittori la sistematicità ad esempio nel registrare ogni effetto naturale il paesaggio che Ruskin amava tanto dell'ascensione era stranamente ambientato in una piccola vallata d'erba e fango attraversata da un torrente come ce ne sono nei prezzi della Maison Neuve Ruskin adesso un altro passaggio Ruskin esaminò come pochi critici mi risulta appunto abbiano fatto l'uso che Tintoretto fece del colore lo osservava con occhio Turneriano del suo Turner vi leggeva la valenza simbolica radicandola nelle sacre scritture la descrizione di Mosè che colpisce la roccia è illuminante nella sua analisi dettagliata dell'aspetto materico e simbolico le figure di Mosè e molte di quelle in primo piano sono nel loro insieme di colore scuro e caldo con il nero e il rosso prevalenti mentre le lontananze d'oro brillante con un tocco di blu sembrano aprirsi come uno squarcio di cielo azzurro dopo la tempesta del colore notava un uso espressivo che rendeva la forza principale del fatto rappresentato la funzione narrativa è l'autonomia l'autonoma potenza come dice e qui appunto cito un brano l'azzurro dice appunto ancora Ruskin su questo dipinto non è quello del cielo ma è ottenuto dalle strisce azzurre sulle tende bianche che brillano al sole e davanti a queste tende si vede la grande battaglia contro Amalek di cui si dà racconto nel resto del capitolo e per la quale appunto gli israeliti trassero tutta la forza dai ruscelli che sgorgavano dalle rocce penetranti sono le osservazioni sul colore in quasi ogni dipinto sulle corrispondenze accese fra le figure e il padre ad esempio come nel San Paolo nel martirio di Santo Stefano a San Giorgio Maggiore o nella raccolta della manna a San Rocco dove il colore è insieme un dato narrativo e presenza sacramentale qui qui il bianco e il grigio delle tende nel chiarore di Afano del mattino rendono infatti con fedeltà letterale l'ora del giorno della caduta della manna nel racconto biblico ma sono anche parte del bianco dominante di cui la divinità stessa è costituita segno del pane dell'Eucarestia egli notava poi che Tintoretto era l'unico pittore a utilizzare effetti di luce trasparente per accrescere la sublimità delle figure e la sua tendenza a subordinare la forma degli oggetti e rapporti di luce e ombra nelle lontananze come nell'erezione del serpente di bronzo mi avvio ora la conclusione riferendomi a un altro appunto osservazione acuta che è stata fatta ieri sul paesaggio sul raddoppiamento questa funzione di raddoppiamento attraverso la presenza degli alberi che viene effettuata e quindi l'ampliamento l'amplificazione possiamo dire attraverso nel paesaggio come appunto è stato colto ieri ecco e quindi una la lettura della visitazione che Dan Ruskin ha al dipinto mi sembra particolarmente calzante come cosa dice Ruskin di questo quadro un quadro piccolo dipinto in tutta la sua maniera migliore squisito nella sua semplicità senza pari per vigore e certamente uno dei brani di pittura più preziosi che vi siano a Venezia evidentemente non può mostrare nessuna delle sue capacità di invenzione più elevate un quadro con quattro figure non può essere paragonato a una tela enorme che ne contiene 40 o 50 ma proprio per questo è dipinto con una tale scioltezza che non c'è opera che io ammiri di più ed è inoltre del tutto priva del gusto rinascimentale dell'effetto drammatico i gesti sono semplici e naturali come in giotto ma espressi da linee di una nobiltà che nessuno tranne Tintoretto ha mai raggiunto l'orizzonte estremamente basso e i tessuti di colore cupo spiccano contro il cielo leggero i contorni dei tessuti sono così severi che gli spazi tra le figure sembrano gole tra rocce enormi e hanno tutta la sublimità di una valle alpina al crepuscolo quindi amplifica quello spazio quella piccole dati appunto del paesaggio tra le figure le amplifica e vedendoci appunto una gole gole tra le rocce enormi con la sublimità appunto si parlava di sublime di una valle alpine alpina al crepuscolo questo quadro prezioso è a circa 30 piedi d'altezza dallo sguardo dello spettatore ma se lo si osserva a una luce forte si scopre che Santa Elisabetta è vestita di verde e di cremisi la vergine di un rosso tanto amato dai grandi coloristi una specie di rosso mattone luminoso di un scarlatto tendente al marrone che contrasta con il nero intenso con riflessi marrone dorato ed entrambi hanno un fazzoletto bianco gettato sulle spalle Zaccaria dietro di loro si inclina sul suo bastone in un abito nero con maniche bianche il tocco di luce bianca brillante che traccia il contorno del ginocchio di Santa Elisabetta è un esempio curioso del modo in cui Tintoretto fa risaltare le masse scure con una sorta di alone più luminoso che fino a poco tempo fa si sarebbe considerato un effetto artificiale e gratuito ma il dagliarrotipo ci ha mostrato cosa che l'occhio non avrebbe mai potuto fare che l'istinto del grande artista era giusto e che un contorno di lucenetto e improvviso definisce davvero il bordo degli oggetti scuri mettendoli così in risalto davanti a questo quadro vi è un preziosissimo continua Ruskin Tiziano un'annunciazione pieno di grazia e di bellezza e tuttavia per lo spettatore che fosse entrato minimamente nello spirito di Tintoretto risulterà evidente la relativa debolezza e convenzionalità povero Tiziano ma lui dice che fosse entrato nello spirito di Tintoretto se entri nello spirito di Tintoretto cogli delle cose appunto diverse in modo diverso ecco quindi mi sembra che appunto questa lettura della visitazione offre un esempio appunto di quella di quel potenziamento del dato paesaggistico che quindi una sovradeterminazione di questo dato che aggiunge appunto una che contribuisce appunto alla lettura della del dipinto in chiave in chiave religiosa quel paesaggio tra le due tra le due madri future madri quindi quel paesaggio centrale è incornigiato dalle due donne e il paesaggio appunto ne entra a far parte lo completa quell'abbraccio in cui avviene appunto il riconoscimento della presenza del massia messia questo elemento è stato colto potenziato esasperato potete dire possiamo dire ma sicuramente appunto ha fornito una chiave di lettura che può essere naturalmente mi rimetto agli esperti non so se sia stata una supposizione appunto che sia stata esplorata è noto che negli anni successivi Ruskin si rivolge ad altri pittori si interessa ad altri pittori a Carpaccio a Botticelli ma a molti altri ma l'interesse per il pertinto retto e per il paesaggio continuò ed emerge attraverso dei dipinti copie impropriamente chiamate copie che commissiona ai giovani pittori qui c'è una una riproduzione di Edward Byrne Jones della stessa visitazione del 69 e poi appunto ad Angelo Alessandri un giovane pittore dell'accademia appunto allievo dell'accademia di belle arti commissiona particolarmente dotato per la per pittura di paesaggio commissiona tutti tutti tutto il ciclo di di San Rocco ovviamente impresa raschiniana ma impossibile da portare a termine ma qualche dipinto viene viene realizzato da Angelo Alessandri e sono esattamente dipinti con il paesaggio particolarmente in rilievo come vedete la fuga in Egitto e anche uno di questi appunto è probabilmente di raschin e e l'altra Maria è di Angelo Alessandri concludo raschi nel 1877 quindi facciamo un salto temporale scrive un libretto un esile che si intitola la guida ai principali dipinti dell'accademia di belle arti di Venezia nel 77 appunto il linguaggio è molto diverso rispetto a quello di Modern Painters non c'è più la Purple Rose che l'aveva perseguitato Carpaccio sotto traccia è il l'eroe il grande artista che che ha preso il cuore e la mente di raschin in questo momento ma in in questa appunto guida divisa appunto in due parti raschin dedica solo l'attenzione una breve attenzione a Tintoretto a due dipinti di Tintoretto quali anche questi dipinti di cui si è parlato già ampiamente alla Dama Oideva appunto come viene titolato da raschin e l'uccisione di Caino questi sono i due dipinti sono si trovano nella sala dell'assunta cosiddetta sala dell'assunta dove appunto troneggiava l'assunta di Tiziano c'erano appunto le sedie per poterla ammirare ed era meta di pellegrinaggio di viaggiatori soprattutto inglesi ma non solo ecco naturalmente raschin non è nella nella diatriba Tintoretto Tiziano sicuramente propende per Tintoretto e e quindi appunto da una lettura di questa visita alla alla sala nascondendo in qualche modo la 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 pala dell'assunta non non ne parla se non dopo se non alla fine ma di cosa parla appunto parla di questi due dipinti della Dama Oideva e e del Caino e e dice questo e concludo insomma l'intervento con questo brano che è in qualche modo appunto è anche presenta una lettura ancora diversa più tarda di Tintoretto da parte di raschin molto problematica ma di cui possiamo poi discutere ecco dice questo ora guarda i due dipinti i due quadri scuri a destra e a sinistra del Tiziano sopra le porte oscurità visibile darkness visible questa è in inglese con lampi che la attraversano la nube tempestosa ci sovrasta con squarci di fuoco sono dei tintoretto non se ne trovano dei migliori massimi esempi al mondo per quel che ne so io di ciò che si può reputare lavoro eccelso per assoluta potenza pittorica nulla si può paragonare alla colossale potenza di Tintoretto in quanto pittore ma non devi pensare di poter trarre qualcosa di buono da questi dipinti ci vorrebbero vent'anni di lavoro per comprendere la loro finezza in quanto pittura per il resto c'è poco altro da poterci cavare Adamo ed Eva in occasione della loro caduta non sedevano sul prato come a un picnic estivo offrendosi educatamente le mele tanto meno la Madonna salì tutta e undeggiante in cielo avvolta nel suo abito rosso e azzurro in occasione dell'annunciazione ma di quel che è vero e falso in questi dipinti dei loro errori e della loro grandezza non ho tempo di parlare ora né ne hai tu di ascoltarmi ti chiedo soltanto tu lettore visitatore di notare che la pittura è diventata ormai un'arte cupa e non luminosa e in molti modi un'arte impressionante e sgradevole anzi aggiungo una volta per tutte e ne troverai la prova nelle opere veneziane più tipiche di quest'epoca tarda che venivano esportate nelle corti straniere come oggetti di lusso un'arte lasciva tuttavia fino al momento in cui Tintoretto dipinse la crocifissione nella scuola di San Rocco Venezia non aveva in cuor suo abbiurato la sua rilegione eccetera ecco quindi ho voluto concludere con questa visione della della Damo e Deva perché appunto Raschini dà una lettura si è parlato ieri appunto della lettura di Pallucchini come appunto una lettura espressionista viene notato e Raschini anticipa questa sensibilità dando appunto questa definizione questa darkness visible associata appunto alla Damo e Deva io concludo qui il mio intervento appunto scusandomi di aver ridotto però penso che ne siate contenti di questa questa riduzione di non avervi tediato oltre e così e sono a vostra disposizione naturalmente per una per domande se ce ne saranno grazie grazie a Emma Sdegno per questa affascinante panoramica che anche se ha ridotto è stata un po' lunghina forse per alcuni però era talmente interessante che siamo rimasti tutti affascinati l'ultimo last but not least intervento della giornata del convegno è quello di Sofia Magna Guagno del Custi Storici e Smision di Vienna dottore di ricerca e storia delle arti la sua tesi ha sviluppato un'ipotesi circostanziata sulla committenza di un ciclo di dipinti di Paolo Veronese noto come il ciclo di Buckingham da parte della Pia Casa del Soccorso di Venezia i suoi interessi di ricerca riguardano anche la critica artistico-letteraria italiana e straniera sugli artisti veneti del Cinquecento in particolare su Paolo Veronese studi che sono confluiti nel contributo di interculture e di interculture dialog oggi ci parlerà del paesaggio che non c'è Mario Pratesi di fronte a Tintoretto molte grazie per la gentile presentazione e grazie anche al comitato scientifico per la possibilità di partecipare a questo convegno tra gli scrittori e ammiratori di Jacopo Tintoretto vissuti a cavallo tra 8 e 900 parlerò oggi di Mario Pratesi nato a Santa Fiora l'11 novembre del 1842 ed è ceduto a Firenze nel 1921 un autore toscano di infelice fortuna in vita ma recentemente rivalutato dalla critica in seguito al lavoro di Anne Urbancic dal titolo Reviewing Mario Pratesi The Critical Press and its Influence edito nel 2014 dalla University of Toronto Press romanziera e saggista oscillante tra il realismo di matrice manzoniana e l'esperienza naturalista verista il suo romanzo più riuscito e anche più noto è L'eredità edito nel 1889 di cui è stato realizzato nel 1961 un adattamento cinematografico da Mauro Bolognini dal titolo La Viaccia con Jean Paul Belmondo e Claudia Cardinale Per la Biografia del Pratesi e la Bibliografia degli Iscritti rimando alla voce del biografico degli italiani a cura di Iole Soldateschi così come al lavoro di Anne Urbancic prima citato mentre mi collego alla critica di Mario Guidotti per introdurre Ricordi Veneziani in cui Mario Pratesi interisce tre lunghi capitoli dedicati alle biografie dei tre artisti veneti Veronese, Tiziano e Tintoretto in quest'ordine che uscirono per la prima volta nel 1899 nell'illustrazione italiana Ricordi Veneziani sono un'isolata esperienza dell'autore nel genere odeporico ed ebbero successo in numerose edizioni tra cui una tedesca del 1905 tradotta da Müller-Roder Come scrive Mario Guidotti i ricordi Veneziani non sono semplici reportage di pubblicista frettoloso né fotografie di uno scrittore verista bensì i sentimenti che un italiano poco dopo l'unificazione della patria prova visitando uno dei luoghi più affascinanti della penisola Venezia cui pretesi si recca attorno al 1870 al seguito dell'allora segretario generale del ministero dell'agricoltura dell'industria del commercio Luigi Luzzatti che oltre ad essere stato nel 1868 uno dei fondatori dell'università Ca' Foscari allora chiamata scuola superiore di commercio diventerà nel 1872 membro effettivo dell'istituto veneto di scienze lettere e arti dove oggi è conservata la sua corrispondenza l'incarico di segretario dell'onorevole Luigi Luzzatti fu di sollievo al Pratesi che poteva finalmente così dedicarsi alla scrittura dopo un periodo di precariato e di instabilità psichica Guidotti scrive Venezia lascia in Pratesi un'impressione che definisce sana c'è andato da modesto professore con pochi soldi in tasca e con il grande desiderio di vedere e ha visto nel modo più obiettivo possibile senza diaframmi sentimentalistici senza la maniera morbosa di tutta una letteratura su quella città l'occhio obiettivo acuto di Pratesi in ricordi veneziani viene allogiato anche da un critico a lui contemporaneo uno storico della letteratura con interessi per la storia dell'arte Giulio Natali che così scrista di Pratesi pensatore uomo di buon gusto acuto osservatore e scrittore produttivo capace di descrivere in poche parole l'immagine di un monumento o di una gloriosa testimonianza del passato poche in effetti sono le parole che Pratesi dedica al paesaggio nelle vite dei tre artisti veneti ma non per questo poco avvedute sono gli anni in cui Pratesi si esercita anche come scrittore paesaggista inclinazione che sfocerà a breve nell'edizione di figure paesi d'Italia edito nel 1905 sia nella vita di Veronese che in quelle di Tintoretto e di Tiziano e di Tintoretto in quest'ordine l'autore si sofferma sul paesaggio e sul rapporto degli artisti con la natura sono dei frammenti all'interno dei tre lunghi capitoli di ispirazione ridolfiana in cui l'autore costruisce una sua propria teoria del paesaggio per i tre artisti veneti nel caso di Tintoretto sembra che il paesaggio non venga descritto per questo il titolo di questo intervento è Il paesaggio che non c'è non si tratta solo necessariamente di un paesaggio descritto e narrato imitato e ricreato dallo scrittore bensì di un paesaggio evocato dalle descrizioni e dalle digressioni sul modus operandi di Tintoretto del suo istinto creativo rispetto alla natura e il suo eccentrico modo di rappresentarla per l'impostazione romanzata della vita dei tre artisti veneti pretesi si dimostra vicino alla tradizione romantica risorgimentale delle biografie degli artisti piuttosto che rivelarsi filologicamente aderenti alle fonti storiche che tuttavia gli forniscono degli input fondamentali per dipanare la sua interpretazione accorata del pittore veneziano prediletto appunto Tintoretto si inserisce in questa tradizione dal carattere romanzato l'episodio minuziosamente riportato dal pratesi del ritratto fatto a Pietro Aretino cui Tintoretto misurò al volto disservendosi di una pistola oppure il licenziamento del giovane artista dalla bottega di Tiziano su cui pratesi ricamando su Ridolfi sviluppò una breve ma concentrata digressione sull'invidia del maestro ciò che per pratesi è più apprezzabile di Tintoretto è il suo istinto creativo al servizio del sentimento e degli impulsi che lo pone in rapporto privilegiato con la natura di cui è in grado di esprimere forza e vehemenza nelle opere pittoriche così scrive più di ogni altro pittore veneto Tintoretto ritrae dell'indole popolare sincera subitanea fervida appassionata e prodiga di sé fino all'ontemperanza or certo le sue smodatezze non potevano piacere al Tiziano in quel mondo sereno di immagini in tutte le composte bellissime in cui la pittura veneziana quasi vagheggiando se stessa era rimasta fino allora il Tintoretto porta dal proprio intimo la cecità la procella della passione quella passione citando Dante del terzo canto del purgatorio che l'onestade ad ogni atto dismaga cioè quella passione che distoglie l'onestà ad ogni atto ma che può generare dei nuovi modi e stupendi o il sublime quale sorge solo miracolo che non può ripetersi né imitarsi dall'essenza generosa del sentimento il Tintoretto scioglie le figure di quella loro venerea compostezza che ormai cominciava ad essere un precetto di scuola per dare tutto campo all'azione senza voler sempre ottenere quella perfetta bellezza che è piuttosto un prodotto dell'arte culta che non della ruda natura a cui impulsi egli obbedisce come il leone come il popolo del fanciullo per lui le figure sembra che principalmente abbiano importanza da questo dall'essere mosse dal cuore una predilezione dichiarata già nella vita del veronese la prima che si incontra i ricordi veneziani qui Pratesi scrive più semplice più subiettivo grande nella passione quasi direi più italiano il Tintoretto in un altro passaggio della vita di Bironese si riscontra la preferenza dell'autore per il pittore qui Pratesi anticipa quegli aspetti tanto amirati dell'artista che verranno abbondantemente dispiegati nella vita dedicatogli si tratta della tragica potenza del Tintoretto capace di infondere passione sincera anche in una comunissima figura grazie al dinamismo ricercato nei moti dei corpi che Pratesi nella vita del Tintoretto metterà in relazione al rapporto privilegiato dell'artista con la natura e alla sua capacità di creare un connubio tra personaggi e elementi paesaggistici così scrive i personaggi di Veronese sono quasi sempre pacifici e genitosi non vedi mai in loro la tragica potenza del Tintoretto il quale peraltro la spiega piuttosto nel movimento appassionato delle figure che in un singolo carattere delle teste questo Tiziano sa talora intuirlo elevandosi da un concetto più alto per l'altezza del carattere spirituale e il mirabile accordo collineamente a gusti il suo Cristo della moneta non è cosa di questo mondo è la vera concezione del nome ma il Tintoretto è anche una figura comunissima sa dare tale impeto di passione sincera che nessuno ce lo supera ne poteva superarlo il Tiziano prima di adentrarci nel paesaggio di Tintoretto agli occhi di Pretesi propongo uno sforzo un confronto con il paesaggio da lui osservato nei dipinti di Veronese e di Tiziano il paesaggio di Paolo Veronese per Pretesi è sostanzialmente un paesaggio decorativo in completa sintonia con la gioia e il riso delle sue felici rappresentazioni proietto ora un dipinto di Veronese ritrovamento di Mosè salvato dalle acque oggi il museo del Prado che non viene citato direttamente dal Pretesi ma che può fornirci un appiglio visivo per la descrizione spero gradevole che fa l'autore quanto al Veronese egli non è mai più geniale siccome allora che ritrae la magia delle grazie femmine con tutte le loro fulgide pompe naturali ed artificiali e anche la giocondità di certi aspetti della natura hanno essi la loro grande poesia certi riflessi aerei certe apparizioni o risoluzioni istantanee di luce che si sprigiona con si divina facilità delle nubi certe fisionomie vaghe e fertili di paese sono come se la faccia del grande creato si rivolgessi a noi con un gran sorriso di gioia e tutto è felice le piante non potrebbero abbellire la scena con fronda più ricca e più verde un fiume attraversa un ponte lontano e scorre beato tra collinette e villaggi le nubi iridenti si adagiano nel tepore soave del cielo come se volessero negarsi anche loro nella profonda volutà universale e in mezzo a tale campagna li pone non meno florida di essa bellissime donne come regine che abbiano lasciato la reggia per mostrarsi a una festa nel loro abbigliamento più suntuoso tutto riposa in gran calma sicché diresti che in quel paradiso terrestre e intorno a quelle eve così ben vestite dalla loro sarta veneziana non so da che cantare gli uccelli e correre il fiume ne basta perché talora come nel ratto d'Europa al palazzo ducale gli amorini scherzano fra le fronde inviati a recar ghirlandi di fiori a donne che sono anche loro fiori di gioventù e leggiadria alle quali il toro che anch'esso fu inghirlandato somiglia con massitudine umana il regno d'amore come Paolo lo dipinge non ha che riso senza le tempeste e le tragedie che pur lo tingono di sanguigno anche i cieli mitologici di Paolo sono tutti un tripudio di cupidi lanciati in aria di veneri che porgono coppe di gioia di nudità virgine trasfigurate nella chiarezza radiosa mentre in Tiziano il paesaggio per pretesi è un regno a sé stante dominato da una soave e calma bellezza che non interagisce con la gioia o la drammaticità della scena rappresentata come nei suoi dipinti non c'è mai nulla che passi il segno della dignitosa bellezza onde ogni atto e forma viene a comporsi in un decoro sia urbano insieme sia naturale così egli nella vita doveva usare la stessa savia misura doveva essere maestro di quella piacevolezza di quella affabilità un po' da volpe ma che è anche una specie di incanto un incanto un po' stimile a quello che esercitava sulle belve la lira d'Orfeo e ancora il Tiziano ritrae obiettivamente la natura senza alterarla ma non la subisce quale unica dittatrice nella riflette freddamente come farebbe un cristallo il dettatore è solo lui che nell'immagine naturale trasfonde e fa circolare la vita parlando del quadro mitologico festa degli amorini al prado sono i sogni beati di un altro tempo sono fantasie umane affratellate con la natura accordate alle immagini reali e domestiche del paese che qui pure come in tutti i dipinti del Tiziano è vago e arioso quegli alberi quella casa quelle nuvole quei cespugli quel campanile lontano un campanile che si affaccia spesso a questi paesaggi è forse un ricordo della valle alpestre in cui nacque il pittore anche quando deve rappresentare una scena tragica Tiziano per Pratesi non si appresta a creare un paesaggio scenico funzionale alla drammaticità dategli a rappresentare una sacra tragedia e questa intelligenza dell'umano gli rapporterà in modo la fantasia all'orrore della catastrofe che la vedrà come la vedevano i tragici antichi e Shakespeare non quale funzione scenica ma come fatto che realmente accada sotto i suoi occhi e così lo rappresenterà alludo specialmente a Martirio di San Pietro che Pratesi ovviamente non poteva vedere l'originale di Tiziano che era andato distrutto nell'incendio del 1867 ma vide la copia di Carlo Lotto inviata di lì a poco a Venezia dal re Vittorio Emanuele II in sostituzione del quadro distrutto Pratesi continua è un agguato in un luogo selvaggio chi ha commesso ad altri di uccidere il santo fugge inorridito a cavallo in fondo alla selva il cielo vagante d'ombre e di luce le piante agitate coi tre personaggi soli il santo supino il carnefice che gli sta sopra col ferro insanguinato e il compagno del santo che con le vesti sparse dal vento fugge tenendo il viso distratto dalla via per cui si precipita tutto grida in quel dipinto tutto annuncia che si compie un gran delitto improvvisamente è una fuga di persone e di cose sospese un tratto e in fondo che cosa vedete come contrapposto una placidissima valle la stupenda o stupida indifferenza della natura è un campanile lontanissimo il solito campanile che sorrideva dalla fantasia del pittore anche quando creava tragedie diverso il caso di Tintoretto che per Pratesi si distingue per essere un artista soggetto alle passioni e che riesce ben a trasporre nelle opere pittoriche le sue figure hanno una sincerità intima per cui ogni moto ogni espressione ogni aggruppamento riesce loro naturalmente come conseguenza di un impulso istantaneo e riflesso le pennellate del Tintoretto non fanno che seguire questi rapidi impulsi per cui egli talora si dà a dipingere sti di furia che si direbbe aver editato dagli elementi primitivi ovviamente della natura la forza creatrice o distruttrice del moto Pratesi esalta la tragica potenza del Tintoretto capace di infondere passione sincera anche in una comunissima figura grazie al dinamismo ricercato nei moti dei corpi che si mescolano con i moti del paesaggio e degli elementi paesaggistici alla Madonna dell'Orto nel giudizio universale i moti dei personaggi e degli elementi del paesaggio diventano un tutt'uno per creare quella confusione quel terrore quello spavento citato dalle fonti si tratta di un paesaggio funzionale al dramma dei protagonisti nel giudizio universale San Michele al cospetto dei cieli incalza i peccatori all'ultimo precipizio qui Pratesi cita puntualmente di Dolfi altri vi piommano avviticchiati ai demoni intanto continuano i morti a risuscitare al suono delle trombe degli angeli poi prosegue in autonomia alcuni di quei morti altri sono rivestiti di carne altri sono ancora spompati altri hanno le braccia che finiscono i rami d'albero quasi nel lungo sonno che dormirono sotto terra dove le piante affondano le radici quei morti si fossero così attaccati alla vita vegetativa per salvarsi dal nulla per sentirsi ancora uniti in qualche modo alla vita dell'universo perché poi non manchi nulla al giudizio egli immaginò che un gran fiume trascini i corpi degli annegati che pendono dalle barche quando Pratesi descrive il paesaggio in tintoretto lo descrive e lo rievoca come paesaggio catastrofico così succede anche quando prende in prestito da illustri autori inglesi evocative citazioni dopo aver presentato il lugubre pennello di tintoretto a San Rocco Pratesi inserisce una traduzione rivisitata di John Eddington Simmons Renaissance in Italy The Fine Art Pratesi scrive figurò pure la fine dell'universo città e nazioni disfatte sono precipitate come cose cadute a terra da un'unica cateratta in cui si raccolsero tutti i mari e tutti i fiumi già ministri di vita eppure di distruzione mentre la polvere umana è dispersa dai venti John Eddington Simmons nel testo sopracitato aveva inserito in una lunga lista di opere del pittore visto in Italia anche il giudizio universale alla Madonna dell'Orto così presentato dalla traduzione in italiano la distruzione del mondo dove tutte le fonti i fiumi i laghi i mari della terra hanno formato un'unica cateratta che romba con città e nazioni sulle rapide precipitando in un abisto senza fondo mentre tutti i venti e gli uragani dell'aria si sono congiunti in un unico oggetto che solleva gli uomini come foglie morte verso il giudizio dall'originale Simmons The destruction of the world where all fontains and rivers and lakes and seas of earth have formed one cataract that thunders with cities and nations on its rapid down a bottomless gulf while all winds and hurricanes of the air have grown into one blast that carries men like that lives up to judgment Si tratta chiaramente di un debito di Simon Taraskin di Modern Painters che aveva descritto con simili parole sempre a giudizio universale la Madonna dell'orto Nor is the luggish litty or the philly lake that bears the cursed bustle but the ocean of the earth and the water of the firmament gather into one white ghastly cataract the river of the word of God roaring down into the gulf where the world has melted with its fervent heat choked with the ruins of the nation and the limbs of its corpses tossed out its whirling like water's wheels anche di fronte alla crocifissione di San Rocco Pratesi vede un'immagine catastrofica e così dice la crocifissione è un vero uragano le figure si piegano come alberi sopra una montagna scosta dal terremoto non ve n'è una che sia dritta tutti si piegano si contorcono in chiodora Gesù in mezzo ai ladri i più buoni più savi in questo dipinto sono gli asini e i cavalli che sembrano piangere inorriditi già la croce di Cristo è rizzata e risplende nel buio del cielo e gli vi allarga le braccia che sembrano potenti a schiodarsi e stringere in un amplesto d'amore o in una maledizione tutta quella turba infame piega dal patibolo il capo come un atleta non vinto riguardando un mucchio di donne affrante piede alla croce e vorrei concludere con un'ulteriore citazione di Pratesi che suggerla la sua passione e preferenza per Tintoretto e in cui il paesaggio poco citato è protagonista non vedi mai pittura tranne il giudizio di Michelangelo dove l'orrore fosse più epico e diffuso e perché non ricorda appunto tanto la composizione accomodata e accozzata a freddo nel proprio studio perché non ricorda appunto la scena teatrale ma dal senso di una catastrofe immensa dove concorrono gli elementi naturali ed umani mi risponde Alvasari chi sapeva dipingere in questo modo è pittore dei più grandi non solo di Venezia ma del mondo grazie a Sofia Magna Guagno abbiamo scoperto il paesaggio che non c'è quindi dopo un intero convegno su Tintoretto e il paesaggio siamo arrivati al paesaggio che non c'è a questo punto io inviterai tutte le relatrici di oggi pomeriggio a venire gentilmente al tavolo per la discussione le domande le curiosità che ci possono essere appunto curiosità domande nessuno 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 ha qualche appunto da fare io devo dire sono rimasta affascinata da tutte e due le sezioni che potremmo definire così di questo nostro pomeriggio o forse tutte e tre lo sguardo sui fiamminghi e sulla letteratura di Oltralpe nella comprensione di Jacopo questo approccio alla foresta e al sublime in Tintoretto e ai neufragi quindi Tintoretto e i neufragi e poi questa parte letteraria che indubbiamente attraverso la lettura di John Ruskin che forse non era già familiare a tutti ci ha portato in una nuova dimensione della comprensione di Tintoretto quindi io direi chiederei a cominciare da Mari se avesse qualcosa da aggiungere da commentare da sottolineare sull'intervento di chi l'ha seguita andiamo in ordine la cosa che mi ha detto sicuramente poi si sarà da sviluppare le nostre idee il nostro confronto nei testi che mi penseremo di qua per quanto mi riguarda è stata proprio un ideale combinazione dal discorso di Michelle Akumam che così bene ha raccordato questo mondo complesso e fino a tutti gli interventi quindi mi ritengo soddisfatta del risultato del pomeriggio qualcuno che magari volesse non so avere qualche spiegazione ulteriore soprattutto su questa fase appunto di paesaggio fiammingo questa è una cosa che mi ha sempre lasciato affascinata e curiosa per questo fatto che c'è oltretutto questa diffusione da parte di questi incisori fiammichi che calano a Venezia con Scott fu ricoverato in casa da Tiziano ben conscio Tiziano del potenziale economico delle stampe veramente faceva di questi foglietti pubblicitari perché in realtà se noi li riportiamo al linguaggio alla comprensione moderna è il primo a veicolare sistematicamente le proprie invenzioni attraverso la stampa cosa che Tintoretto non fa l'approccio di Tintoretto alla grafica è solo collaterale non agisce mai in prima persona forse perché non gli interessa forse perché in fondo il suo tipo di committenza di clientela è una clientela locale quindi è già sufficientemente a contatto una scuola chiama l'altra questi personaggi magari sono a contatto già fra di loro perché fanno parte di più confraternite o perché sono nobiluomini che comunque lo coinvolgono nella decorazione dei palazzi e poi appunto è il pittore dei grandi Tintoretto alla fine è il pittore dei grandi cicli ed è un peccato che questo ciclo di San Marco non sia ricostituito credo che sia una delle cose peggiori dal punto di vista culturale che sia stata operata in questi ultimi anni cioè questa idea di non ricollocare in spazi ancora esistenti quello che c'è perché se non ci fosse si dice è perduto ma invece anche questo smembramento del ciclo di San Marco fra l'Accademia Brera qualche cosa rimasto in loco fa perdere quel senso di unità che forse giustificava e giustificava anche qualche scelta iconografica perché si diceva in fondo il miracolo del Saraceno non è un episodio clou nella storia nella geografia di San Marco è un episodio un po' collaterale che probabilmente però Tintoretto si trova a dover affrontare perché c'è già la decorazione dell'albergo e quindi qualcosa io credo che sia verissima quella lettera che scrive Gian Battista Tiepolo quando dice che noi pittori dipingiamo quello che i committenti ci chiedono di dipingere cioè questi grandissimi pittori del Cinquecento che alla fine credo sono degli eccezionali artigiani ma che non dobbiamo identificare non so se siete d'accordo con me con la libertà dei pittori ottocenteschi dei pittori più moderni che dipingono e poi vendono invece no questi pittori i nostri pittori prima ricevono la commissione e poi si adeguano in certo qual modo a tu dici io adesso stavo un pochino più indietro diciamo però appunto la lettera è di Tiepolo quindi quindi andiamo ben più avanti diciamo che probabilmente si andava anche perare come come dici tu cioè qui i pittori venivano chiamati anche nel Settecento da chi da chi voleva frescare il palazzo per lodare le glorie della propria famiglia e sì c'erano i quadretti da cabine c'erano i quadri minori però l'importanza dell'investimento cioè il ritratto del procuratore piuttosto del ciclo che esaltava le storie della sua famiglia ecco e in questo come dici tu a nord si è molto più liberi come si è liberi con i quadri paesaggistici da cabine nel più tardi che dite? nessuno? scusa? avevo una curiosità se c'è tempo per una domanda siccome abbiamo evocato la questione dei restauri e della tecnica molto in questo convegno rispetto alla comunicazione sulla collaborazione specialmente nei dipinti in cui Pintoretto avrebbe collaborato con pittori fiamminghi mi chiedevo se oltre al dato visivo che è stato fondamentale finora e per tanto tempo per distinguere la mano dei vari artisti ci fossero eventualmente delle specificità per esempio a livello tecnico su alcuni pigmenti che quindi possono distinguere inizialmente le mani di un certo è stato per esempio per esempio la Stefania Amazona ha ritenuto di che hanno fatto dire ha ritenuto tutto il carocco nel deserto perché adesso l'hanno rispandato le persone dell'erro che sono vedete sia i restauri sia la diagnostica e quindi mi ha visto che il mio soggetto era molto conforme a quello che molto parto allora quella di San Rocco del deserto è un'avventura che ho vissuto in prima persona perché il restauro o meglio questa manutenzione che è stata fatta non è stato fatto un restauro a fondo come si sta facendo per la crocifissione è stato fatto nel momento in cui si è realizzato che i quadri del presbiterio della chiesa non erano più nell'ordine logico in cui erano stati concepiti inizialmente quindi si è deciso di fare ordine perché i quadri non erano neanche stati ricollocati nel modo esatto in cui erano stati collocati nel 1729 dopo il rifacimento della navata della chiesa non si sa perché non si sa che cosa sia successo ma a un certo punto negli anni 60 pensano bene di girarli questi quadri per cui la cattura di San Rocco viene tolta dal presbiterio e messa sopra la piscina probatica il San Rocco dell'eserto va a finire sulla destra del presbiterio la destra entrando e dall'altra parte va il San Rocco che risana gli animali perché posso usare un termine poco scientifico Dio solo lo sa non si è trovata nessuna documentazione io sono andata in cerca per i documenti anche in sovraintendenza non si sa cosa sia successo probabilmente si voleva rivalutare maggiormente la cattura portandola lungo la navata perché in presbiterio c'è sempre stato un problema di illuminazione i quadri non si vedono come dicevano anche in passato abbiamo anche studiato dei sistemi di illuminazione che funzionassero allora a quel punto sempre grazie a Sei Venice io devo dire che la scuola di San Rocco questa volta non ci sono i rappresentanti ma deve veramente essere grata a Sei Venice abbiamo potuto in occasione del centenario di Tintoretto ricollocare i dipinti facendo però ormai che li avevamo in mano un po' di manutenzione in quell'occasione la curiosità cadeva proprio su San Rocco nel deserto perché perché è l'unico quadro di cui nel Cinquecento non si parla a un certo punto quando si ridecora la chiesa si dice trovandosi in scuola un quadro di San Rocco nel deserto beh prendiamolo sistemiamolo adattiamolo alla nuova struttura della navata e mettiamolo in chiesa e già appunto Stefania Mason aveva visto questo aveva ipotizzato questa mano di Paolo Fiemmingo all'epoca quando l'abbiamo tolta e sono stati fatti tutti questi studi e queste analisi soprattutto con la rete di illuminazione con l'IR con la rete di illuminazione ci siamo resi conto che il confronto fra il disegno della cattura che è un disegno meraviglioso un disegno bellissimo e quello invece soggiacente il San Rocco erano due cose completamente diverse ma completamente diverse e questo diciamo è stato il passo successivo non solo nel paesaggio ma anche nella figura perché all'inizio eravamo stati più prudenti tant'è vero che io l'avevo presentato come attribuito a Tintoretto e Paolo Fiemmingo all'altro convegno e poi invece Stefania ha fatto il passo oltre cioè ha detto no questo è tutto Paolo Fiemmingo ecco questa è un po' è un po' la storia e qui va assolutamente citato adesso sarà scappato Dino Chinellato che sua mano propria ha fatto questa analisi eccezionale con una tecnica che si è un po' inventato lui quindi si fa sul fronte invece retroilluminandolo si riesce a evidenziare il disegno soggiacente adesso poi la tecnica noi l'abbiamo fatto con una tecnica molto casalinga nel senso che lui fotografava e io tenevo la luce da dietro è stata una cosa un po' così adesso ovviamente in questi anni le tecniche si sono affinate e quindi adesso si è potuto fare la stessa cosa sulla crocefissione senza staccare il dipinto dalla parete e senza arretto illuminarlo quindi siamo in una fase di evoluzione in cui avremo molte novità in breve sì 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 cioè tante cose le stiamo proprio scoprendo passo passo e tante osservazioni anche che venivano fatte in passato sulla qualità sull'attribuzione per esempio sul sarocco che risana gli animali benedice gli animali chiamatelo come volete si diceva tintoretto e bottega in realtà non è tintoretto e bottega è Giuseppe Angeli che ha ridipinto in gran parte la parte centrale perché essendo la tela esattamente sotto il finestrone della chiesa è piovuto e tutta la sezione centrale si era danneggiata infatti ci chiedevamo come maestro questa figura è quasi neoclassica non tornava nessuno con tintoretto in realtà si è scoperto che Angeli era intervenuto pesantemente come è intervenuto pesantemente su tante altre cose quindi tante volte quello che si dice non è un autografo di tintoretto parte come autografo di tintoretto ma poi deve subire i restauri di Santo Piatti deve subire i restauri di Giuseppe Angeli e chi più ne ha più ne metta alla fine o se ha il coraggio di andare a fondo e togliere quelle che sono le superfettazioni oppure rimane sempre una cosa un po' quindi andremo avanti grazie solo una una piccola osservazione in margine a quello che è stato detto a proposito del rapporto dell'artista con la committenza e mi riferisco a Palladio che in una noterella che è sfuggita a moltissimi osserva dopo aver detto cosa bisogna fare quello che ha fatto lui eccetera e poi dice ma spesse ripeto a parole come mi ricordo ma spesse volte fa di bisogno all'architetto ubbidire a coloro che spendono piuttosto che a quello che si dovrebbe fare quindi è una conferma anche che valga per qualsiasi esatto lui pubblica nel 1570 e lui stesso a 30 anni circa cioè da Villa Godi a Lonedo è del 1537 poi la ripubblica ma corregge allora alcuni con lei anni fa quando ancora non erano chiare non era chiara la successione degli interventi dice no i quattro libri non sono attendibili è attendibile a Villa Godi e non è vero lui è cambiato e lo scopo dei quattro libri era anche di fornire delle istruzioni per chi doveva ancora fare architettura e non per il passato ma questa noterella mi sembra molto divertente sì assolutamente c'è il padre mi domande Emma Ruskin after Ruskin we have Sartre in 20th century Ruskin I mean Ruskin loves Tintoretto because he doesn't like Titian because Titian is too sensual too renaissance is that true would you say I mean why Ruskin is a kind of phase in the historiography of Tintoretto maybe he is replaced by agnerismo mannerism mannerism but Ruskin is I think maybe he kind of turns to Tintoretto against the sensuality of the renaissance that perceives sensuality of the renaissance I know he changes his mind about Titian he does change his mind he comes in and out but first of all he is putting Tintoretto in the first place I think amongst the Indonesian artists and always before that it had been Titian but now it's Tintoretto I don't know do you think the Ruskin phase has why does it finish what happens in the 20th century with Tintoretto studies can you say a little bit more about that after Ruskin yes shall I answer in English or in Italian as you prefer respond in italiano it's okay Allora chiedi più cose nella tua domanda ci sono più più domande in realtà allora ti dispiace no 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 in realtà non direi che Ruskin predilige Tintoretto in contrasto a Tiziano è la sua struttura la sua struttura retorica quella di o contrapporre retoricamente lo fa ma in realtà non è non nasce da un'opposizione a Tiziano è interessato a Tiziano all'inizio quindi nel momento in cui scopre Tintoretto Tiziano era uno dei pittori prediletti da Ruskin ma predilige quando appunto incontra Tintoretto incontra un genio impetuoso probabilmente è questo aspetto ma anche proprio linguaggio nuovo l'aspetto spirituale però per esempio lo dirà dopo successivamente scoprirà l'aspetto spirituale ma in Modern Painters un primo volume di Modern Painters quando ancora non aveva scoperto Tintoretto in quel modo dice che quello che manca a Tintoretto è la spiritualità quindi non aveva accolto quello aspetto però lo affascinava lo stesso lo attirava il linguaggio nuovo il linguaggio e particolarmente l'attenzione alla natura a una natura come abbiamo detto una natura che è molto diversa da quella di Tiziano quindi questo nel novecento quello che ho potuto vedere io da dei miei studi che ho un po' fatto per preparare questo intervento Ruskin nell'ambito anglosassone è molto considerato Ruskin è anche intimidisce chi si avvicina agli argomenti della pittura citano Ruskin non aggiungo neanche un po' come ho fatto io stasera citano ampiamente brani da Ruskin e lasciano la parola a Ruskin non viene tanto elaborato però viene anche devo dire i critici che ho sono minori sono voci minori che appunto in modo molto così anche serrato producono pubblicano questi libri su Tintoretto quindi si esplode l'interesse per Tintoretto dopo Ruskin dopo gli anni settanta abbiamo moltissime pubblicazioni però il respiro è molto limitato in particolare l'aspetto di Ruskin appunto che tiene insieme tutto nel paesaggio viene perso secondo me viene soprattutto fatto attenzione su alcuni aspetti della pittura questa impetuosità ma altre cose ecco tutti ritengono questa associazione con Turner interessa incuriosisce e devo dire appunto volevo aggiungere anche questo che nel quando abbiamo diffuso la call for papers speravamo che ci fosse qualche storico dell'arte che volesse approfondire questo aspetto Tintoretto Turner perché Ruskin ha dato delle suggestioni sembrerebbero azzardate però dieci anni fa appunto è stato decifrato un notebook che ora la Tate in cui appunto ci sono un notebook che dimostra che Turner è stato nella scuola grande di Sarocco e ha riempito questo notebook di schizzi quasi leggibili ma della scuola di Sarocco 21 ce ne sono se non sbaglio di schizzi quindi Turner ha studiato a fondo Tintoretto e quindi spereremmo appunto che ci sia insomma uno storico dell'arte mi appello ai presenti che voglia approfondire questo aspetto perché Ruskin dà delle suggestioni però appunto forse meriterebbe uno studio ecco allora grazie a tutti per questo convegno che è stato veramente coinvolgente anche se è durato a lungo perché mattina e pomeriggio le sentiamo le ore che sono passate però vi assicuro che sono stati veramente molto interessanti una cosa veloce stavo guardando il quadro qui dietro che mi pare che sia una parte della fuga in Egitto e la vegetazione è lussureggiante e mi stavo chiedendo qual è la religiosità cioè se si può ricavare dal quadro il senso religioso del Tintoretto perché è una fuga ed è fatta per salvare il bambino vanno in Egitto si allontanano dalla loro casa dalla loro terra per salvare il bambino e le nuvole sono rosa che danno quasi un'alba un senso di speranza di nuova vita ma soprattutto guardavo adesso non li vedo bene da qua ma mi sembra che ci sia che ci sia un albero tagliato la natura ripeto è abbondante è lussureggiante però c'è un albero tagliato e poi mi pare di vedere un tronco dunque l'albero tagliato è comprensibile perché dietro c'è il lavoro umano ci sono delle persone in barca ci sono degli uomini vedo che stanno lavorando e il tronco è tagliato anche lui ovviamente però fiorisce cioè ci sono dei mi pare di vedere la sinistra mi pare di vedere dei rami che escono dal tronco e allora per associazione di idee mi viene in mente il tronco di I.S I.S è il capostipite da cui ci sarà tutta la generazione che porterà Davide poi a Gesù quindi una continuità non è una fine è un inizio forse ingenua la mia osservazione però mi è venuta così grazie sulla destra e comunque se le interessa questo tema c'è un bel libro di Esther Brunet che si chiama La Bibbia secondo Tintoretto in cui trova diciamo probabilmente qualche risposta in più alle sue curiosità e la mia osservazione è un bel di a a a a a a Grazie. 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 gli anni, siamo riusciti, dico siamo perché adesso noi che siamo in quella che si chiama la cancelleria, lavoriamo come fosse un lavoro a tempo pieno. Difatti qualcuno mi dice ma perché non l'ho trovato in ufficio? Dico perché anche lavorerei magari di mio da un'altra parte. E quindi sì, diciamo che queste cose devono essere appunto sempre molto curate, deve esserci un approccio e io credo che anche gli studenti che abbiamo qui con noi non si rendano conto, beati loro per la loro età, di cosa fosse Venezia alla fine degli anni Sessanta, cioè quando i comitati per la salvaguardia di Venezia hanno cominciato a lavorare. Se volete togliervi la curiosità andate a sfogliare qualche libro pubblicato nei primi anni Settanta, per esempio c'è lo splendido libro di Wolters sulla scultura gotica, prendete le tavole, andate in giro per Venezia, andate a vedere quanto è stato fatto, quanto si è lavorato, quanto è stato investito per arrivare a questo livello. Seconda cosa, curiosità sull'Assunta. se lei fa un'analisi della fortuna critica attraverso le stampe dell'Assunta, lei trova le prime riproduzioni nell'Ottocento. Prima non interessava a nessuno. Il quadro importante nella riproduzione era la pala pesano. la pala pesano. L'Assunta era ritenuta perché? Perché poi si cementa questa idea del classicismo di Tiziano, l'ovale perfetto, e non si capisce invece quale sia la potenza e la modernità di quel dipinto. Adesso che ho detto la mia cosa da tizianista, io chiederei a Martina Frank di venire qui e chiudere, se non ci sono altre curiosità. Grazie. Allora, se voi prendete il programma, guardate dove siamo arrivati, vedete che in fondo, in fondo a questa pagina compare conclusioni. Io direi che lo facciamo scivolare fuori dalla pagina questa parola conclusione perché siamo ormai pochi sopravvissuti e non credo che si possano fare conclusioni perché abbiamo aperto, voi avete aperto tante strade, è un terreno in movimento e certamente non stabilizzato, quindi direi che ci salutiamo. Io ringrazio tutti, naturalmente i redattori, i colleghi, i studenti, il pubblico e vi promettiamo che cerchiamo di essere molto veloci per pubblicare anche un libro che raccolga i contributi di questi due giorni. Quindi vi saluto anche a nome del guardia grande che si scusa di non essere più qui a quest'ora e grazie ancora. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.